Aldo Scimmia, che cosa ha provato appena aperta la lettera, la missiva che ha ricevuto dalla protezione civile e dal capo di partimento Franco Gabrielli? Ma sicuramente un grosso stupore, un grosso sgomento e molta amarezza, ma poi nulla di più non mi aspetto molto io, non mi aspetto molto perché gli eventi dal 7 di aprile del 2009 si sono susseguiti e sempre con la stessa direzione. Non è mai cambiato nulla, per cui sì, vabbè, ci sta, visto come sono andate le cose ci sta anche questo. Senta, lei lavora come vigile urbano, è un uomo delle istituzioni, diciamo così, anche se in una piccola comunità, però comunque appunto ha questo ruolo, si fida ancora dello Stato dopo i due processi, dopo queste vicende, dopo tutto quello che c'è stato? Ma guardi, io svolgo il lavoro per necessità, altrimenti preferisco fare altre cose, è dura, è sicuramente molto dura, ma per questo, e come dicevo prima, per mille altre cose che sono successe dal 6 aprile in poi, ho difficoltà a trasmettere, scusate, ho difficoltà a trasmettere questo sentimento di fiducia alle mie figlie e alla mia famiglia. Il capo di partimento Gabriele ha detto quando la sentenza di primo grado ci è andata contro siamo stati solerti nel assolvere i nostri doveri, adesso che la sentenza di appello è a nostro favore, in qualche modo siamo altrettanto solerti, al di là dei sentimenti nostri umani come funzionari dello Stato non possiamo fare sconti, secondo lei è comprensibile questa posizione. Ma io non mi vorrei addentrare in questa storia, come ho detto già oggi, questa è una cosa a cui penseranno gli avvocati che di loro sì ho fiducia, per il resto io sono impegnato adesso come ogni giorno a commemorare quel 6 aprile e mi sembra anche un po' facile dire così in tutta onestà, però forse è anche la mia incapacità a capire quella posizione del momento che io sto dall'altra parte, però dico, vabbè, i soldi vi servono, riprendetevi lì, ma visto che siete così potenti ridateci i nostri cari. Senta, ecco appunto come dice lei, è un'operazione di memoria, di ricordo che si porta avanti tutti i giorni, quindi non solo il 6 aprile, sono passati sei anni dalla tragedia, un periodo di tempo sufficientemente lungo, come vede intanto la sua comunità, quindi quella dove vive e lavora quotidianamente e poi come vede adesso, a sei anni, la città dell'Aquila più in generale. Allora, la comunità ho una vaga impressione che si trascini, la cosa più importante è che purtroppo non vedo in questa comunità la capacità di indignarsi, non vedo più una coscienza critica, non vedo più la capacità di reagire, mi sembra che la città un po' a livello morale si stia disgregando. Per il resto, il futuro, boh, veramente non saprei cosa... Io vedo che, lo dicevo prima, ho visto il mio paese, onna, sembrava che fosse il centro del mondo. Mia sorella, che è non udente, ancora adesso vive in una casa che è dichiarata parzialmente inagibile e dopo sei anni piove dentro e ancora sta là in attesa della possibilità di poterla ristrutturare. Vai a spiegare questo a una persona portatrice di handicap. Questa è la difficoltà. Ci sono state manifestazioni della popolazione dopo la sentenza di appello che ha assolto sei dei sette imputati condannati in primo grado, ci sono stati cortei e adesso è arrivata l'ora del ricorso in corte di Cassazione per il terzo grado di giudizio, anche per le posizioni che sono state assolte pure per Bernardinis come la sua. Che cosa si aspetta dal processo di legittività? Nulla. Nulla perché la tendenza, peraltro, delle ultime sentenze non mi lascia fiducioso. ma ripeto, non ho fiducia, preferisco tacere perché l'esperienza è stata veramente più amara di quanto lo stesso dolore che questa vicenda ci ha addotto, ha prodotto più dolore dopo quasi, per come si sono svolte le cose. Hai voglia a dire ho rispetto delle vittime? No. Questo è una cosa che rivendico con forza. Non c'è stato rispetto per le vittime. Mai. Per chiudere, c'è almeno un segnale di speranza che può avere questa città? Ci vuole veramente una grossa forza. Ci vuole veramente una grossa forza. Ci vuole una grossa fantasia, soprattutto. Mi spiace. Non mi pare di poter vedere questo orizzonte così roseo. A ci vuole un segnale di scendia.